E' due figli, perché nel frattempo ne ho fatti due, per cui sì, questa trasmissione è molto di più, fa parte della vita di tutti noi, anche della mia famiglia chiaramente, perché facciamo i conti con quelle che sono le esigenze di un programma strano, complicato, perché in realtà si va quando il tempo lo consente, ci si ferma più del dovuto, quindi è un programma che non ha uno schema ben definito, ed è un programma che veramente nasce di settimana in settimana, anche in base a quello che la cronaca ci suggerisce, però è una bellissima esperienza, una bellissima avventura che chiaramente i miei figli hanno condiviso. Il programma si difende un po' da solo perché effettivamente va bene, ha un ottimo ascolto e quindi diciamo che si è consolidato in una fascia oraria ormai tradizionale, ma ha uno zoccolo duro di ascolto e ha anche una certa attenzione in termini istituzionali di convenzioni, che naturalmente poi entrano in azienda, quindi sono risorse importanti, anche in termini pubblicitari. Credo sia questo. Come io sia riuscita in 22 anni a restare a linea blu, questa forse è la domanda, io comincio a pensare che sia un programma talmente complicato da fare, proprio perché richiede uno sforzo non indifferente che alla fine, nonostante le dichiarazioni dell'amico Carlo Conti, nessuno lo vuole fare, è per questo che ci sono ancora io. Io credo che Carlo lo farebbe, gli ho scritto fra l'altro anche ieri dicendogli siamo pronti, tu ti aspetta di diritto alla conduzione di questo programma, perché Carlo è un subacqueo, è un pescatore, veramente ha tutti i requisiti per poterlo fare e soprattutto è talmente amato dagli italiani che sicuramente se parlasse lui di mare lo ascolterebbero tutti. Detto questo però linea blu è mia, quindi o facciamo cambio con Sanremo oppure Carlo dovrà aspettare. Ce ne sono molti in Italia, ce n'è uno all'estero in particolare che è la Polinesia. Sì, la Polinesia è veramente un luogo particolarissimo, ma immagino ce ne siano mille altri ancora che non ho conosciuto. Sì, la Polinesia è un luogo particolarissimo, ma immagino ce ne siano mille altri ancora che non ho conosciuto.